Malgrado la sua popolarità e il grande lavoro messo in campo da Dema per uscire dai confini napoletani e accreditarsi come movimento politico anche sulle altre realtà della campagna, De Magistris sa che per la corsa alle regionali dell'anno prossimo avrà bisogno di una coalizione ampia che lo sostenga. Dopo aver tentato il dialogo con alcuni pezzi del Partito Democratico, da mesi De Magistris lancia segnale al Movimento 5 Stelle e in particolare ai suoi esponenti napoletani con cui da sempre tiene aperto un canale di confronto a partire dal presidente della Camera. Roberto Fico tornerà a Napoli il 25 aprile per le celebrazioni della liberazione ed è quasi scontato che possa esserci un momento per salutarsi con il sindaco. Dal resto Fico e De Magistris sono amici da tempo e l'attuale presidente della Camera ha già sostenuto al ballottaggio delle comunali del 2011 l'ex magistrato e se si dovesse andare ad elezioni anticipate per il Parlamento, proprio Fico sarebbe il nome preferito da De Magistris per la sua successione a Palazzo San Giacomo. De Magistris in queste ore ha quindi parlato chiaramente di alleanze in vista delle regionali. Da parte mia c'è la disponibilità al dialogo, c'è la disponibilità a costruire ponti politici di umanità e di onestà, di mettere in campo alternative politiche. È evidente a tutti che un'occasione che può rappresentare il laboratorio, poi chi lo vuole cogliere lo coglie, chi non lo sa cogliere non lo coglie, è l'elezione alla Regione Campania dell'anno prossimo, che potrebbe essere l'unico campo di battaglia in cui non vince la Lega. E' questo secondo me il luogo in cui bisogna nelle prossime settimane capire se c'è lo spazio per la costruzione di un'alternativa che parta ancora una volta da su. Grazie a tutti.